Sanità all'ASP stabilizza 31 infermieri a tempo indeterminato. Il completamento delle procedure di stabilizzazione per varie figure del comparto sanità si è svolta nella sede della Direzione Generale dell'ASP di Siracusa la cerimonia per la firma dei contratti da parte dei 31 infermieri area dei professionisti della salute e dei funzionari assegnati con decorrenza immediata a tutte le strutture ospedaliere e territoriali dell'azienda. Il completamento del percorso si è giunto nello scorso mese di luglio con l'approvazione della graduatoria di stabilizzazione. Con questo ulteriore provvedimento abbiamo dato certezza di lavoro a tanti altri validi professionisti che da anni profondano il proprio impegno nelle strutture ospedaliere e territoriali di questa provincia ha detto il Direttore Generale dell'ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone.